Presentazione in largo anticipo per la stagione teatrale al Tosti di Urtona, se gli appuntamenti per la stagione di prosa che partiranno da ottobre, ma ci saranno anche concerti, ci sarà il teatro per le scuole e il teatro dei dialetti. Gabriele De Guglielmo, direttore di questa struttura, dunque si parte in anticipo e ci sono anche delle novità. Si parte in anticipo, torna la prosa, tornano i concerti, torna il musical, per la prima volta ospiteremo uno spettacolo internazionale di Family Flots e soprattutto andremo a proporre al nostro pubblico un doppio turno in abbonamento, quindi due giorni di spettacolo in abbonamento per una stagione meravigliosa, ricca di tante sorprese, impegnativa, una grande scommessa per la Compagnia dell'Alba e il teatro Tosti. Fabrizio Angelini, direttore artistico, quindi quali saranno i grandi nomi? I grandi nomi di questa stagione saranno Andrea Pennacchi, Chiara Francini, Gianmarco Tognazzi, Sabina Guzzanti, Giorgio Tirabassi e poi avremo due compagnie giovani di spettacoli che io ho visto personalmente e che sono di qualità altissima. Sindaco Leot Castiglione, insomma si pronuncia una stagione teatrale di altissimo livello. Questo conferma che la scelta dell'amministrazione e della gestione del teatro Tosti è stata una scelta giusta, una scelta che è stata rafforzata sicuramente anche dalla gestione di una compagnia di ragazzi di Ortona che è cresciuta insieme al teatro stesso. Questo logicamente ci gratifica e ci convince ancora di più di valorizzare le risorse della nostra città. Ormai sono anni che questo teatro è gestito dalla compagnia dell'Alba e i risultati sono questi che vediamo e che sono avanti agli occhi di tutti. Assessore regionale Daniele Damario, qui alla presentazione della stagione teatrale ad Ortona, si parte in anticipo con la comunicazione quest'anno? Sicuramente sì, è il primo cartellone teatrale che viene presentato qui a Ortona, tra virgolette c'è una novità, praticamente tutte verranno raddoppiate, quindi tutte le rappresentazioni verranno raddoppiate, è sicuramente importante, devo dire che come Regione Abruzzo dopo aver approvato il testo unico di riordio nella cultura è stata data tanta attenzione agli spettacoli dal vivo e con esse anche la cultura. Tra virgolette usciremo presto con un bando anche per aiutare i soggetti extra fuss, quindi non riconosciuti dal Ministero, questo è il caso di Ortona in cui compagnie che prima erano ritenute minore, che invece hanno una grossa valenza sociale perché gestiscono teatri e poi organizzano anche laboratori teatrali che fanno sì che il teatro diventi patrimonio di tutti.